Avere a disposizione una nuova classe di farmaci è sempre importante per qualunque patologia, specialmente per il diabete, visto che in Italia colpisce almeno 3 milioni di persone. Oggi siamo qui a Milano proprio per la presentazione in anteprima del primo rappresentante di una nuova classe di farmaci che sono gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio e ci facciamo raccontare di che cosa si tratta, il funzionamento e soprattutto i vantaggi clinici dal professor Andrea Giaccari, professore di diabetologia al Policlinico Gemelli di Roma. Allora professore partiamo subito dalla novità, che cos'è esattamente il farmaco di cui avete parlato qui oggi di fronte alla stampa? Si tratta di una nuova classe di farmaci che sfrutta un meccanismo completamente differente rispetto a quanto abbiamo a disposizione fino a oggi per la terapia del diabete. Di fatto gli attuali farmaci in qualche modo sfruttano l'insulina o aumentandone la concentrazione o sostituendola oppure aumentandone l'efficacia, i famosi sensibilizzanti. Con questa nuova classe di farmaci invece stiamo in grado di ridurre la glicemia attraverso questo nuovo meccanismo che è l'inibizione del riassorbimento del glucosio a livello renale. Tutto il glucosio se il rene funziona viene normalmente filtrato a livello glomerulale, poi viene riassorbito a livello tubulare, inibendo questo riassorbimento il glucosio si perde con le urine. Quindi abbiamo un nuovo meccanismo di azione che è totalmente indipendente dagli altri e quindi funziona in tutti i pazienti in cui il rene funziona. Ecco, il capostipite di cui avete parlato oggi come si chiama? Il primo di oggi è Dapaglifozin, ce ne sono altri in arrivo, in realtà derivano da una molecola naturale che si chiama fluorizina che ho avuto la fortuna di studiare 25 anni fa quando ero decisamente più giovane di oggi, ma è molto interessante. Molto bene, quindi una molecola che ha origini naturali. Senta, che dati abbiamo sull'efficacia innanzitutto, quindi di quanto abbassano la glicemia e con che modalità? Guardi, un'altra delle caratteristiche positive, e ce ne sono anche altre, è il fatto che naturalmente tanto più è alta la glicemia e se rene funziona, tanto più glucoso viene filtrato, tanto più glucoso non viene riassorbito. Quindi tanto più alta la glicata di partenza, tanto più efficace il farmaco. Quindi è vero che dà risultati straordinari per pazienti che hanno soltanto delle modesti per glicemia, ma dà dei risultati impressionanti soprattutto nei pazienti che hanno un ampio scompenso, proprio perché è il suo meccanismo di azione. Più glucosio c'è, più viene filtrato, più viene perso e più si ha efficacia. Senti, invece vediamo la versante sicurezza, che è molto importante per i farmacenti diabetici. Innanzitutto la sicurezza sul rene, visto che l'organo bersaglio del farmaco è proprio il rene. Cosa succede nei pazienti nefropatici o con ridotta funzionalità renale? Allora, come ho detto prima, essenzialmente funziona se il rene funziona. Quindi se un paziente è nefropatico, nel senso che non filtra, è chiaro che non può filtrare il glucosio, quindi dare questo farmaco ha poco senso. Non viene filtrato nelle urine, quindi c'è poco da non riassorbire. Il farmaco sarà scarsamente efficace. Al contrario, invece, il farmaco ha effetti sul rene. Abbiamo per fortuna un modello umano, nel senso che ci sono persone che hanno una mutazione genetica, per cui hanno questo cotrasportatore che non funziona dalla nascita e per tutta la loro vita, semplicemente perché hanno una mutazione, e non hanno alcun tipo di malattia renale o ha aumentato il rischio di malattia renale. Quindi possiamo stare abbastanza tranquilli sul fatto che inibendo questo cotrasportatore non avremo alcun effetto dal punto di vista renale. Ecco, invece sul cuore cosa succede, visto che appunto anche l'FDA ha una particolare attenzione sui dati di sicurezza cardiovascolare? Ma guardi, abbiamo in questo momento soltanto meta-analisi di studi registrativi, non sono ancora usciti i classici studi di prevenzione secondaria. La sensazione, diciamo, le prime meta-analisi sembrano essere positive e in qualche modo di nuovo il meccanismo ci fa anche forse capire perché, semplicemente perché è un meccanismo d'azione che funziona in modo indipendente dall'insulina e se pensiamo quanto è stretto il legame fra iperinsulino-resistenza, iperinsulinemia, rischio cardiovascolare, infarto ictus e spezziamo questo meccanismo attraverso un farmaco totalmente diverso, possiamo ben sperare che i risultati saranno positivi. Senta, professor Giacchari, la domanda più difficile, qual è il place in terapia di questo farmaco? Cioè come si inserisce nell'armamentario molto ricco dei farmacenti diabetici? In realtà personalizzare la terapia di un paziente con diabete tipo 2 non è facile, se ci pensa noi abbiamo al momento, questa è la sesta classe di farmaci e questo si chiama calcolo delle probabilità, ci sono 720 combinazioni solo come possibili classi, poi ovviamente ogni classe ha 10-15 molecole diverse, sul fenomeno non so neanche quante ne esistono, quindi se io prendessi tutti i miei pazienti ad ognuno di essi potrei dare una terapia diversa. La diversità di questa classe di farmaci è non soltanto l'effetto che ha sulla glicata, che ovviamente è significativo e anche un pizzichino superiore ad altre classi di farmaci, quanto gli altri effetti, se io ho bisogno di un paziente in cui temo gli effetti dell'insulina, ottengo vantaggio in una riduzione significativa e costante di peso, ottengo vantaggio in una significativa riduzione della pressione arteriosa, ecco questo è sicuramente il paziente ideale, qualunque sia il farmaco che sia già presente in questo paziente, proprio perché è un meccanismo completamente differente, al di là poi dei limiti di eventuale rimborsabilità. Certo, ecco parliamo proprio di questi aspetti, chi potrebbe rischiere il farmaco, con che regole, appunto cosa ha deciso l'AIFA in merito? Ma guardi, in realtà nonostante tutti i tentativi di cercare di far comprendere un adeguato technology assessment come si fa per ogni classe di farmaci, AIFA ha ritenuto forse considerando quanto ho detto io prima, come è possibile l'ipotesi di rallentare la progressione della malattia diabetica, ha posizionato il farmaco all'inizio, cioè in associazione con metformina che è il primo farmaco che deve essere dato a tutti i pazienti con diabetico 2 o in monoterapia laddove un paziente sia intollerante a metformina e alla fine della storia naturale di epitipo 2 ovvero in associazione a insulina con o senza metformina, ma in realtà appunto sarebbe prescrivibile in tutte quante le classi ed è riservato soltanto a chi è specialista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.